Ciao, sono Chiara Letizia e sono qui per presentarvi il mio workshop Xtreme Makeover Music Edition. Tratteremo argomenti quali come presentare una demo, come fare delle foto professionali e come utilizzare in maniera efficace i social media. Un corso di 5 ore di teoria e pratica rivolto a tutti i generi musicali. Non è un corso di canto, bensì un corso di marketing musicale. Due le date principali, il 6 maggio a Lissona e il 13 maggio a Roma. Si accede solo tramite iscrizione, mandando un'email all'indirizzo info-musicarchimedia.com. Cambia, diventa professionista della musica, ora anche tu puoi farlo. Vi aspetto! Grazie a tutti!